Salve a tutti ragazzi, oggi nuovo video e nuovo volo con il Mavic Air, oggi andremo in una destinazione originalissima, penso unica in tutta Italia, un paese fantasma, ma un paese fantasma in quanto negli anni 60 questo paese che era un paese agricolo fu acquistato da un conte che decise di farne una Las Vegas in miniature in Italia, poi negli anni 70 andò tutto allo scatafascio e finì tutto e adesso questo paese è fantasma, comunque vi lascio il link in descrizione del sito di Consonno per vedere come era il paese nel suo splendore e quando era una piccola Las Vegas, perché è veramente affascinante la storia di Consonno e di come era una piccola Las Vegas in Italia. Las Vegas in Italia. Las Vegas in Italia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.